Rieletto per la quinta volta come presidente della sezione arbitri Valdarno Luciano Giunti, Patrizio Pasqui. Ieri sera l'assemblea elettiva gli ha confermato l'incarico per il prossimo quadriennio ed è questo dunque tempo per Pasqui di propositi oltre che di bilanci. Ieri sera c'è stata l'assemblea elettiva, sono stato confermato presidente per il quinto mandato consecutivo. È stata una serata molto bella, per certi aspetti anche lunga perché abbiamo fatto prima l'assemblea ordinaria e poi l'assemblea elettiva. Mi auguro innanzitutto al termine della stagione sportiva di avere dei risultati importanti. Questa dovrebbe essere una stagione per certi aspetti molto positiva. Ovviamente ancora è tutto prematuro e quindi caso mai se avremo qualcosa da comunicare e da festeggiare ve lo faremo sapere. Mi aspetto di portare altri ragazzi, giovani, ragazzi e ragazze all'interno della nostra associazione. I numeri della sezione sono, del resto, in continua crescita. La sezione è che continua a crescere. Devo dire poi che nella stagione sportiva che si sta concludendo abbiamo immesso 38 nuovi associati. Abbiamo fatto un corso arbitri strepitoso. In questo momento l'organico è di 137 unità e quindi questo ci fa veramente sperare bene per il futuro. E proprio nelle ultime ore anche un premio a Luigi Russo, arbitro della sezione Valdarno, come miglior direttore di gara da parte del Gran Galà del calcio aretino. Luigi Russo, un arbitro della sezione Valdarno che arbita in eccellenza, una promessa, una speranza della sezione, verrà appunto insignito del premio che viene riservato appunto al Gran Galà del calcio aretino. Quindi insieme a lui verrà premiato un associato della sezione di Arezzo. Quindi Arezzo e Valdarno avranno il loro premiato e quindi riceverà questo prestigioso e importante premio. Grazie a tutti.